Cari bardonechiesi e cari tutti che frequentate Bardonecchia, perché la amate come la amiamo tutti noi, approfitto di questo spazio per trasmettervi alcuni messaggi, ma uno in particolare, molto semplice e sintetico, state fermi, non vi muovete, bugia nem, bardo, bugia nem. Oh caro giovane pieno di energie che hai vent'anni e vuoi andarti a fare la gita di alpinismo con le pelli di foca, magari al colle dell'arò, perché ci devi andare? Perché se ti rompi un'unghia di un mignolo poi il 118 deve venire a prendere te, quando in quel momento il 118 fosse ad occuparsi dei pazienti del coronavirus? Caro pimpante settantenne, perché devi andare a sudare in mezzo al bosco e prenderti l'influenza, quella normale, per poi chiederti se hai il coronavirus e intasare il centralino del 112 per chiedere se hai davvero il coronavirus o no? Caro ragazzino di 16 anni che stai gomito a gomito col tuo compagno di banco ascoltando lo spotify, perché devi stagli così gomito a gomito? Perché non te ne stai a casa tua? Bello fermo? Allora, cari tutti miei, che voi siate di Bardonecchia o non lo siate, non vi muovete, bugia nem, bardo, bugia nem.